musica 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 non le entra ceci la bocca ma sforzati un pochino ma non è possibile ma non è possibile e te l'ho detto eccolo guarda 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 io te lo ho perchè non mi c'entra cosa ammiro di chi in una persona il rispetto la sincerità o l'altro ismo adesso è scantacilità che cosa ammiro adesso è scantacilità cosa? la sincerità la sincerità giusto a cosa non rinuncerei mai ahah non so non so non so al cerco lato non so al cerco lato al mio anello o al telefonino a cosa a cosa a cosa a a che cazzo anello è? o lì a cosa a cosa a cosa a cosa lo stato che nei miei sogni vorrei visitare al mondo chi di qualunque altro a cosa argentina francia inghilterra tra questi qual'è che vorrei visitare? inghilterra 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 qual'è il mio oggi i miei oggi? oggi? ah che cosa hai visto? ah che cosa hai visto? che cosa hai visto? credevo da te da me ma non mi ha caduto nessuna bordo hai caduto quale gli obbi preferite? ero la domanda ma dove sono i tanzini? ok a scherzare edica Non so niente Qual è il mio Oggi? Ascoltare la fisica, fare attività fisica, guardare Hickson Guardare Hickson Guardare Hickson Esattamente Quale ciclo preferisca in assoluto? Le arancine La carne o le catatine fritte Tra questi La carne Toscane San Toscane Il mio dolce crecherito Il tiranisi Il crechiterole E la carca di Angerle La carca di Angerle Esatto Allora il crechiterole Il crechiterole Ed ecco Cosa Guardare nella gente I capelli I piedi E il nose E il cacare I capelli I capelli I capelli I capelli I capelli Cosa guarda il mio ragazzo? Gli occhi Gli occhi I piedi E il sedere? I capelli 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 Scusate già! Oh! Che schifo intratutti! Scusate per cagare! No, piangete perché non la cagiamo! Anche! Dai, manista lì! Che tipo di musica a scherzo commerciale rock e musica stracca in canne Come sai? Come sai? Cos'è la musica a scherzo commerciale? Il mio peggior dicetto il raggio sintico l'ingenità penso solo a me stessa Non mi arrabbio No! L'ingenità Con quale di questi aggettivi mi definisci? calma dolce e sincera 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 Scusate 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 Ecco questo questo era il video delle domande un po' strane ma più che altro il senso era utilizzare questo Solo lei non è in grado di utilizzare questo Sincera No niente Non lo faremo comunque Non tratturiamo la volta Che c'è nel video eh? E' vero Chissà cosa serve quel tasto Lo sono sempre chiesto No! Potremmo cancellare tutto Vabbè comunque Questo era il video Noi ci vediamo al prossimo video Fateci sapere se questo video vi è piaciuto A me sta spaccando veramente Allora dobbiamo trovare anche a fare la foto della copertina Quindi dobbiamo rimetterlo Quindi Ricordatevi di seguirci sui social A me soprattutto su instagram Non mettiamo a stitch Come facciamo? Sa la bocca piccola quanto un mignolo Ma tu spiegami Non li trovate? Ehm Questi li riutilizzerò sicuramente Potremmo riutilizzarli Anzi quello lo tieni in te così E' sbocciato da te Questo lo tengo io Dicevo a me Sarrizzo Jessica Tantino basta Lei Il mondo di luna Che ha la sua pagina dove vende un sacco di cose Che riguardano i cartoni animati I telefilm I manga Io e me E poi cartoni animati in anime a volte si coincidono Ho digerito delle olive Harry Potter Prenaner Hunger Games Naruto Dragon Trainer Pokemon Gara caciamooo Quarta caciamoooooo Vai Vai Sì, sì. dopo sta meraviglia ciao a tutti